Con grande cordialità i sindaci in primo luogo, tutte le autorità presenti e soprattutto ringrazio per l'ospitalità Luca con cui abbiamo cominciato a lavorare da subito con un approccio molto pragmatico, molto amministrativo e quindi è molto facile lavorare quando si è orientati verso il bene delle proprie comunità e credo che questo sia stato lo stile che con Flavio Tosi, con Serenissima anche affrontiamo il problema.